Nel fitto buio della notte, quando il mondo è avvolto da un velo di mistero e i contorni delle cose si confondono tra le ombre, il castello di Giomici si erge imponente, maestoso e avvolto da una strana aura. Si dice che il castello sia popolato da presenze invisibili, creature che danzano tra le rovine del passato, custodi dei segreti sepolti nell'oscurità dei secoli. Tra tutte le leggende che avvolgono quel luogo, c'è una storia che risuona più cupa e inquietante, quella dello spettro di Gastaldo, un fantasma che si narra, possiede la straordinaria capacità di scrutare nell'animo umano. E' questa la storia che mi ha presto a narrare, una vicenda intrisa di mistero e di tenebra, in cui l'incerto confine tra realtà e leggenda si fa sottile come un filo di ragnatela al vento. Il maestoso castello di Giomici sorge nei pressi di Gubbio ed è un baluardo eretto nell'undicesimo secolo, con l'intento di sorvegliare i confini della valle del Chiascio e difenderla dagli attacchi dei suoi storici rivali, Perugia e Assisi, nemici accaniti della città. E' imponente e ben conservato, questo castello presenta due torri maestose, testimonianza tangibile di un'epoca in cui la vigilanza era una priorità assoluta, e camminando tra le sue mura è possibile ammirare non solo la robustezza delle strutture difensive, ma anche la bellezza di alcune abitazioni e della suggestiva chiesetta risalente al 1154. Entrando nella chiesa ci si immerge in un vero e proprio tesoro artistico, affreschi che raccontano storie millenarie dipinte con maestria tra il XII e il XVII secolo. Tra questi capolavori spicca il contributo di Matteo D'Agualdo, il cui talento ha lasciato un'impronta indelebile sulle pareti di quest'antica dimora sacra. Il primo documento che menziona il castello risale al 1160, una preziosa burla imperiale di Federico Barbarossa. Questo documento rivela un passato tumultuoso, con il castello che cambia proprietà tra le signorie di Assise e Gabrielli, signori di Gubbio. Durante il Medioevo questo luogo fu teatro di aspre contese armate tra le potenti città di Gubbio, Perugia e Assisi. Un periodo turbolento che ha plasmato il destino di questa fortezza e della regione circostante. Ma la storia di questo luogo affascinante non si limita alla sua bellezza artistica. Nelle pieghe oscure delle leggende e dei racconti tramandati tra i viali polverosi alberga un'anima condannata, dallo spettro incerto e dalle intenzioni enigmatiche. Questo è il fantasma di Gastaldo, così lo chiamavano, un'entità che sfida il tempo, avvolta nell'ombra come un mantello di vendetta. Si dice che il suo spirito sia un giudice implacabile, che danza tra le brume della notte, pronto a riservare grazie o vendetta a coloro che varcano la soglia del suo regno. Nel torpore delle notti senza luna, alcuni hanno osato incrociare il suo sguardo smorto riflessosi vetri ormai opachi delle finestre del castello di Giomici. Altri invece hanno avvertito la sua presenza a volgerli come un sudario nel cuore della notte. Quando l'oscurità diventa padrone incontrastata, il respiro del tempo sembra accorciarsi fino a diventare un simbilo straziante. Ma il castello, custode di segreti che la storia sembra aver dimenticato, è più di una mera dimora di pietra. È un crocevia tra il passato e il presente, un luogo dove le ombre dei tradimenti e delle vendette antiche si muovono ancora tra le pietre scure delle sue mura. E coloro che si avventurano oltre la soglia del mistero lo fanno a proprio rischio e pericolo, consapevoli che ogni passo potrebbe svelare un segreto sepolto nell'oscurità pronto a risorgere con la sua rabbia e il suo dolore.